Lei oggi parlerà delle pinete e di quanto siano importanti per un territorio come il nostro ma soprattutto quanto è importante la tutela delle pinete. Ecco, io parlerò di come attraverso una gestione sostenibile che consiste sinteticamente in un compromesso tra interessi di natura ambientale con quelli di tipo economico e sociale si possa mantenere e tutelare questo paesaggio tipico della Sila. Il paesaggio silano si caratterizza per questa peculiarità, cioè le pinete di Pino Laricio che hanno una valenza non solo da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista culturale e storico. Questo significa che la tutela deve spingere anche a una maggiore conoscenza di quello che rappresentano le pinete e di questa gestione sostenibile. Certo, la partenza è proprio questo tener presente quella che è la situazione attuale di queste pinete in termini anche strutturali e di composizione per definire quello che può essere l'intervento futuro volto appunto alla sostenibilità nella gestione. Qual è la situazione oggi di queste pinete? Beh, rappresentano una notevole superficie del territorio del parco quindi potremmo dire che sono le tipologie forestali più rappresentate ma hanno anche una diversificazione in termini di fisionomia, cioè di composizione nel senso che alcune sono in evoluzione verso faggete o verso faggete miste con abete bianco altre sono delle pinete pure però da un punto di vista noi diciamo strutturale cioè di organizzazione del sistema nello spazio sia verticale che orizzontale che è una disposizione semplificata che andrebbe invece resa un po' più complessa e disarticolata. In che termini? Beh, applicando delle modalità di gestione che si basano sui saperi locali cioè sulla tradizione serbiculturale locale che corrispondono oggi a quelli che sono i principi della gestione forestale sostenibile. cioè attraverso degli interventi che sono interventi a basso impatto ambientale che assicurano la perpetuazione della pineta nel momento in cui si assicura la perpetuazione della pineta si tutela e si conserva il paesaggio silano.